Al giorno d'oggi una situazione analoga è assolutamente irripetibile, come era irripetibile la situazione di Charlie Chaplin o di altri personaggi in certi periodi, il cartone animato in quel momento ha vissuto un momento particolarissimo, innanzitutto era un lavoro quasi da apprendista stregone, perché io ricordo che per imparare, scoprire quali colori si usavano sui rodovetri, cioè per colorare i personaggi, abbiamo impiegato tre mesi, perché nessuno voleva rivelare qual era il colore giusto, abbiamo poi scoperto che erano dei banalissimi colori per pareti che si compravano in lattine, però esistevano altri che li facevano costruire, li facevano con delle formule, trovare i rodovetri che erano questi fogli, dove comperarli e come controllare se fossero della giusta trasparenza, era veramente un problema. Allora questo rendeva difficile il lavoro, dall'altro rendeva facile perché eravamo in pochissimi in un settore praticamente nuovo, in cui c'era il far west, chi arrivava prima e chi aveva delle idee sicuramente riusciva a sfondare più facilmente. Oggi la situazione si è ribaltata totalmente, oggi sono in migliaia a lavorare, centinaia di migliaia a lavorare in questo settore, escono film uno dietro l'altro, quindi fare delle storie nuove, essere originali sta diventando sempre più difficile. Gli americani da un lato con tecnologie sempre più avanzate possono riuscire a stupire perché hanno sempre qualcosa di nuovo che non è stato fatto prima e quindi colpisce lo spettatore, però della gente povera come noi, nel senso che dobbiamo realizzare dei film con dei budget molto più bassi, hanno delle grandi difficoltà o se la cavano con delle idee veramente originali e non è facile oggi, oppure rischiano di essere schiacciati da questa tecnologia sempre più forte e imperante. Io ricominciassi adesso a fare film, avessi 30 anni, non lo so, può anche darsi che non farei dei lungometraggi ma magari studierei qualcosa, sicuramente farei un film in 3D perché ho scoperto che la difficoltà del regista sta nel controllare i personaggi nel potere spiegare all'animatore esattamente quello che vuole da un personaggio e tante volte viene mal interpretato. Il 3D permette di vedere subito il risultato, per cui se io con dei bravi animatori in 3D potessi essere a fianco e vedere come si muovono i personaggi e giudicarli sono sicuro che avrei un controllo maggiore. Naturalmente il 3D toglie molto alla fantasia, soprattutto grafica, lega ad un mondo esistente, mentre è bello invece a volte col disanimato si spazia, si è più astratti. I nostri collaboratori hanno modo di vedere i più bei panorami del mondo, mentre artisti internazionali danzano e cantano ai loro ritmi d'origine. In quel periodo una caratteristica del mio studio era anche questa che avendo realizzato il primo lungometraggio West & Soda io mi sono trovato a perdere quasi tutti i clienti pubblicitari perché o lavoravo per il film o lavoravo per la pubblicità. Non mi è mai piaciuto fare le cose a metà perché non si fanno bene, bisogna farle con l'anima, col cuore e con tutto il tempo a disposizione. Salvo uno o due clienti fedelissimi ho perso tutti. Nel fare il secondo film abbiamo cercato di non rifare lo stesso errore perché effettivamente il nostro sostentamento e la possibilità di produrre dei film veniva soprattutto dalla pubblicità. Quindi il fatto di non perdere i clienti diventava un'esigenza anche organizzativa. E come abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mettere un po' di persone che lavorassero esclusivamente nella pubblicità e altre che si dedicassero al film. Diciamo che non è stato facile, non è stato per niente facile perché quando si richiedevano per delle scene particolari tutti gli animatori giusti bisognava riprendere dalla pubblicità e nuovamente ricominciare a sfasare tutto lo studio. Però in qualche modo ci siamo riusciti. In quel momento la pubblicità viaggiava a gonfie vele, si facevano anche tante sigle televisive, quindi c'era molto lavoro ed era un peccato anche perderlo, ma d'altronde un film richiede veramente tanta tanta attenzione e tanta dedizione perché purtroppo finché una scena non è perfetta non si può accettare. Con tutto ciò il film è pieno di errori perché rivedendolo adesso mi rendo conto di come oggi le cose si facciano in maniera mille volte meglio e più accurate, però purtroppo quelli erano i tempi e lavoravamo con quello che era il materiale a nostra disposizione. La pubblicità tirava fortissimo, nel senso che si faceva sempre di più e tantissima, era fatta a cartone animati, quindi c'erano grandi edizio di produzione di film a cartone animati pubblicitari, dalla gamma film, a cartoon film e altri che adesso non ricordo, Pagot, eccetera. C'era questa voglia di fare, di cominciare in un settore che c'era da pochi anni perché soprattutto era indirizzata alla televisione che era recentissima. Lo stile, come ho detto prima, io ho guardato molto quello che facevano gli altri, quello che facevano gli americani, mi ricordo soprattutto i film della UPA di Mr. Magoo, mi pare che si chiamava Magoo Magoo, e richiamasse il personaggio principale. Però non più di tanto, ho seguito il mio istinto, la voglia di provare cose nuove, soprattutto quando abbiamo fatto questo in soda ho cominciato a fare queste scenografie piene di macchie, non i canonici colori piatti oppure appena un po' spugnati, che risultavano un po' freddi, anche se mi rendevo conto che fra i personaggi che erano sempre a calore di piatti e i fondi rimacchiati, un po' materici, c'era un minimo di distonia, di stonatura, che però secondo me si poteva sopportare, anzi rendeva l'immagine un po' più interessante graficamente, attirava un po' più l'occhio, ecco, di una scenografia completamente un po' assettica, come facevano gli americani. Quello che secondo me mancava e che noi abbiamo cercato di fare è stato un nobilitare un po' il disegno animato, sforzandoci di migliorare anche la tecnica, di essere accurati nelle riprese, non so, anche dal punto di vista tecnico ci siamo sforzati di fare qualcosa che in carosello, per quanto uno oggi ne parli bene e Carosello sia diventato una specie di cult, in realtà se noi andiamo a guardare Carosello, io faccio parte di questi che hanno fatto i film di Carosello, non erano bei film, erano film fatti molto dozzinalmente, velocemente, dove c'erano degli errori incredibili, dove a volte c'era solo la bocca che si muoveva, un braccetto che si muoveva, ricordo tantissime scene in cui i personaggi entravano e uscivano e si vedevano il rodovetro, che è il foglio trasparente, tagliato perché entrava, perché li facevano corti anziché lunghi, cose che capiamo noi del mestiere ma che però rendono l'idea di come poco fossero curati. Questo perché dovevano essere fatti velocemente, erano tantissimi minuti perché ogni Carosello era un minuto e quarantacinque e minimo bisognava farne cinque, c'erano certi studi che ne stavano facendo sette, otto, dieci contemporaneamente, quindi erano veramente delle piccole equip che stranamente, pensandoci adesso, erano già pronte per affrontare le serie televisive in Italia, invece la RAI o le televisioni hanno incominciato a comprare i film dal Giappone quando qui avevamo delle strutture molto grandi, molto forti che potevano assolutamente affrontare le serie televisive senza difficoltà. Lo sforzo che abbiamo fatto noi è stato quello di sollevare la qualità del cartone, di raccontare delle storie un po' più complesse e soprattutto di rivolgerci anche a un pubblico che non fosse solo quello della pubblicità. Ecco, stranamente io ero l'unico a farlo, io ricordo i primi film, i primi festival in cui ero l'unico italiano, io mi sono trovato per il primo anno a essere l'unico italiano, il secondo forse eravamo in due o tre, ma non erano animatori gli altri, erano personaggi che venivano da agenzie o che… e questo mi ha sempre colpito, cioè probabilmente c'era tanto di quel lavoro in quel settore che nessuno pensava di levare delle forze per produrre cose in un settore che secondo me invece era interessante, poi si è rivelato oltretutto, non dico quello vincente, però quello su cui oggi si lavora, perché parliamoci chiaro, oggi la pubblicità è molto limitata, mentre le serie televisive stanno crescendo sempre di più. Ecco, questa era la situazione del momento, il merito nostro, se vogliamo chiamarlo così, è stato quello di non guardare solo alla pubblicità e ai soldi, ma di tentare anche qualcosa di più, un passo più lungo, forse anche più lungo dalla gamba, ma comunque di tentarlo. L'uomo ideale del futuro nascerà con due piedi testi.